La moto Cariola Carry è il piacere di lavorare senza fatica. Un utile e comodo supporto per tutte le operazioni dell'orto e del giardino, dallo smaltimento dell'erba tagliata e delle potature, alla movimentazione terra fino al trasporto di legna e di tutti i materiali pesanti. Anche questa macchina, come la serie RTT, ha lo sblocco delle ruote per muoverla semplicemente anche a motore spento. La macchina presenta numerosi accessori, quali un sollevatore, Il pianale con la vasca in plastica La lama da neve frontale con catene Oppure può diventare una torre faro semovente, montando i faretti col gruppo elettrogeno. Grazie a tutti! Grazie a tutti.